Creativa sta andando forte ma il treno Promoberg non si ferma, la prossima tappa è in montagna. Sì, questa intervista a me oggi è nel pieno dello sviluppo di Creativa. È una tarda mattinata ma abbiamo già un pieno assoluto, è già completa la fiera. Pensate quindi quante donne, perché è una manifestazione, una fiera del femminile, noi ospiteremo in questi giorni. Però questa fiera è una specie di anteprima anche rispetto alle altre fiere che ci saranno, in primis la campionaria tra poco. Però ci mettiamo alta quota, alta quota è la festa e la fiera della montagna in un momento in cui il turismo montano ha segnato una crisi perché l'anno scorso siamo andati indietro del 5%, i dati di accoglienza, l'ospitalità si è ridotta. Non l'ospitalità nel senso che la qualità c'è sempre ma le persone che fanno turismo montano sono diminuite. La disponibilità economica è quella che è, la crisi morde e noi abbiamo pensato anche di fare una a tre giorni gratuitamente. Quindi l'ingresso è gratuito, sperando che l'afflusso sia più significativo degli altri anni e delle occasioni di vendita anche di prodotti della montagna. Abbiamo 150 marchi presenti, abbiamo messo insieme la quantità con la qualità perché questo è uno dei punti di forza e soprattutto la sostenibilità ecologica perché c'è un'area tutta dedicata al turismo improntato al relax, alla montagna, bella anche da godere in una sorta di oasi di rilassamento e di benessere. Nonostante la crisi gli operatori rispondono con la qualità. Corrispondono con la qualità, noi abbiamo messo, sono loro che rappresentano il contenuto della fiera. Quindi la fiera non è soltanto una vetrina dell'economia, in questo caso l'economia della montagna, ma è anche un luogo dove le aziende possono esprimersi, anzi si devono esprimere e poi si devono anche far vedere, questo è il senso anche della fiera. Però noi abbiamo notato che le aziende resistono e speriamo che ci sia un risultato positivo alla fine. Su cosa punta questa edizione di alta quota? Punta prima di tutto a coinvolgere tutti gli appassionati in termini gratuiti, vuol dire aprire gratuitamente al pubblico tutti i tre giorni una fiera che vuole presentare la montagna, sia dal punto di vista invernale, con l'inverno che tra poco inizierà, che la proposta outdoor che ormai anche durante l'inverno permette escursioni ai rifugi, nelle nostre stupende eurobie e lungo l'arco alpino. Infatti arriverà gente e operatori sia dall'Italia, quindi dal Trentino alla Val d'Aosta, ma una forte presenza anche da Francia, Svizzera e Austria. L'alta quota vive di attività sportiva, quindi tutte le attività outdoor che si possano trovare ad alta quota saranno sempre gratuite in un parco esterno di 15.000 metri quadrati, dove si potrà sciare, arrampicare, correre, andare in mountain bike, in percorsi e strutture appositamente allestite per l'occasione. Quindi è una grande festa della montagna. Grazie a tutti, grazie a tutti.